Questa giornata oggi siamo in compagnia del professore Durante e parleremo di infezioni correlate ai cateteri venosi centrali, gestione diagnostico-terapeutica e questo è il titolo. È un argomento che ci vede coinvolti da vicino in tutti i nostri reparti di medicina interna ed è un argomento che quindi non è appannaggio solo di chi si occupa di infezioni ma che coinvolge da vicino tutti gli internisti. Introduco il professore Durante che per chi non lo conoscesse è un professore associato e docente di medicina interna presso l'Università della Campania Luigi Van Vitelli è il direttore del reparto di medicina interna infettivologica e dei trapianti a cui fa riferimento il servizio di consulenza infettivologica dell'ospedale Monaldi di Napoli che per darvi l'idea è un ospedale di 400 posti letto con più di 40 posti di terapia intensiva divisi tra terapia intensiva post-operatoria, cardiorespiratoria, cardiochirurgica, utic la dialisi è un servizio di accessi vascolari questo per dirvi che per trattare un argomento come questo in cui le evidenze scientifiche non sono così tante e solide l'esperienza clinica conta ancora molto e noi abbiamo deciso di affidarci alla sua e detto questo non rubo altro tempo e cedo la parola al prof vi ricordo solo che al termine lasceremo un breve spazio per le domande che potrete anche scrivere in chat grazie Fabian ragazzi salve a tutti sono molto contento di stare di nuovo in compagnia vostra nel GIS spero che voi riusciate a vedere in modalità di presentazione le mie slide si confermo prof perfetto io vorrei iniziare con una brevissima presentazione di un caso clinico molto recente di pochi giorni fa si tratta di una donna di 59 anni che noi avevamo dimesso la scorsa settimana dopo averla curata per un empiema pleurico questa donna aveva ricevuto circa 30 anni fa un intervento di diversione biliopancreatica per il trattamento bariatrico di una condizione di obesità successivamente alla fine del 2023 aveva scoperto un cancro del collo retto ed era stata sottoposta a resezione intestinale questo intervento era stato complicato di fatto lei non si era mai ripresa aveva sviluppato prima degli ascessi intraddominali successivamente velocemente per contiguità un empiema pleurico a sinistra vedete qui la radiografia del torace in uno degli ultimi giorni del ricovero durante il quale noi avevamo curato questi ascessi intraddominali ma soprattutto l'empiema pleurico la paziente veniva dimessa con indici infiammatori negativi e a causa di uno stato nutrizionale compromesso con una importante riduzione di peso ipoalbuminemia era stata gestita con una nutrizione parenterale che poi noi avevamo deciso di proseguire anche a domicilio vedete utilizzando questo tipo di dispositivo questo è un catetere venoso perifericamente inserito che però non arriva tecnicamente nelle vene centrali quindi non è un PICC ma è un midline un catetere il cui estremo si arresta grosso modo a livello della vena ascellare ebbene andata a casa è rimasta in condizioni cliniche discrete nel corso del fine settimana quindi pochi giorni dopo la dimissione ci richiama dicendoci che aveva febbre elevata con brivido chiaramente il primo pensiero è stato verosimilmente divessa con un tubo di drenaggio pleurico in assenza di terapia antibiotica forse la terapia antibiotica per questa condizione non è stata sufficiente tuttavia una volta ritornata a valutazione ci siamo immediatamente resi conto che la paziente aveva in sede un catetere venoso non tecnicamente un catetere venoso centrale ma assimilabile ad un catetere venoso centrale per questo motivo abbiamo deciso in assenza di qualsiasi specifica condizione clinica che potesse aiutarci e suggerirci la natura dell'infezione la paziente non aveva dolore toracico e il liquido di drenaggio era estremamente scarso decidiamo di effettuare un'emocoltura da vena periferica un'emocoltura da vena centrale o meglio da questo catetere venoso semicentrale e poi decidiamo di rimuovere immediatamente il catetere inviando a cottura la punta il giorno dopo il laboratorio di microbiologia ci chiama e ci dice è tutto positivo allora noi chiediamo di effettuare una diagnostica microbiologica rapida per cui su un piccolo campione prelevato dal barattolo di emocoltura viene effettuata una nutiplex PCR vedete viene rilevato questo sostanzialmente alle 10 del mattino avevamo già questa risposta uno stafilococco in particolare uno stafilococco aureo apparentemente non caratterizzato dall'espressione del determinante di resistenza che prevalentemente si associa a meticilino resistenza cioè il gene MEC per cui facciamo una diagnosi presuntiva di batteriemia catetere correlata da stafilococco aureo meticilino sensibile il giorno dopo pervengono i risultati delle emocolture sangue periferico stafilococco aureo vedete sensibile a tutto un attimo che metto il puntatore quindi sostanzialmente suscettibile a quasi tutti gli antibiotici stesso identico antibiotipo per la emocoltura da catetere quindi sangue centrale diciamo da vena a scellare e stesso identico isolamento stafilococco aureo dalla punta del catetere venoso centrale vedete con una concentrazione di batterio superiore a 1000 unità por manticolone per ml su questo punto ritornerò tra un momento se vogliamo occuparci in maniera seria di questa condizione delle infezioni dei cateteri venoso centrale dobbiamo conoscere i differenti cateteri e riconoscere anche che ciascuno tende ad avere un differente tasso di infezioni questi che sono sicuramente più utilizzati anche in ambito internistico sono come detto i peripheral inserted central catheters sono cateteri monolume lunghi diciamo più di 20 centimetri ma in genere circa 30-40 centimetri il cui estremo prossimale fuoriesce al livello del braccio o della piega del gomito il cui estremo distale invece perviene fino al livello della vena cava superiore alle volte a livello dell'atrio destro sono utilizzati prevalentemente per infusione di farmaci che richiedono una infusione all'interno di un vaso centrale quindi chemioterapici ma anche per terapie importanti da un punto di vista della potenziale lesività del vaso oppure del volume da somministrare oppure ancora per effettuare nutrizione parenterale totale continuativa in soggetti con gravi forme di malassorbimento altro catetere frequentemente utilizzato in ospedale forse un po' meno in un setting internistico un po' più in un setting intensivistico sono i cateteri venosi centrali a breve termine questo ci fa capire che non li possiamo tenere tre mesi ma li possiamo tenere al massimo al massimo due tre settimane sono i cateteri venosi semplici non tunnelizzati qui ne vedete uno a tre vie esistono anche i cateteri a cinque vie ciascuna via ha un lume diverso questo è importante da sottolineare più sono le vie più sono i lumi maggiore è la versatilità del catetere per somministrare molteplici farmaci ma chiaramente si moltiplica o forse aumenta in maniera esponenziale il rischio di infezione questi invece sono cateteri venosi centrali sempre a breve termine ma che hanno un calibro significativamente superiore possono essere utilizzati ad esempio per effettuare dialisi oppure plasmaferisi o immunoassorbimento cioè una linea venosa attraverso la quale si preleva il sangue e una linea arteriosa attraverso la quale si reimmette nel torrente circolatore del paziente il sangue che è stato filtrato oppure che è stato sottoposto a dialisi che è stato sottoposto ad un trattamento di tipo aferetico in questa immagine vedete un catetere per dialisi ha tre vie in realtà dotato quindi anche di una via centrale e quindi ancora più versatile perché la via centrale è laddove il paziente è un paziente critico che richiede anche terapie di una certa valenza di uretici, inotropi o antibiotici o corticosseroide è possibile utilizzare la terza via per infondere i farmaci chiaramente anche qui più sono le vie maggiore è il rischio di infezione questi sono i cateteri ancora piuttosto frequentemente utilizzati e rappresentano di fatto l'alternativa tunnelizzata ai pic sono cateteri che vengono inseriti in vena giocolare interna in genere a destra poi vengono tunnelizzati in regione pettorale fino all'incirca all'altezza del capizzolo da dove poi la porzione esterna del catetere emerge i più comunemente utilizzati sono i Broviac-Yikman sono cateteri a large ball quindi diciamo di calibro importante e che consentono di infondere in vena centrale anche per prolungati periodi perché la tunnelizzazione rende piuttosto distante 20-30 cm il sito di ingresso nel corpo del paziente che in genere è in questa zona dal sito di penetrazione del catetere all'interno del torrente circolatore la tunnelizzazione di fatto serve a questo questa tipologia di cateteri ha una minore propensione ad infettarsi? assolutamente no ma certamente le implicazioni di un'infezione esterna di questi cateteri non del lume non intraluminare ma extraluminare di un catetere che parte dall'exit side dal punto in cui il catetere penetra nell'acute è sicuramente meno importante perché c'è tutto il tempo di fare la diagnosi dell'infezione di cute e tessuti molli prima che la colonia batterica penetri all'interno del torrente circolatore questi sono catetere ancora più complessi sono anch'essi tunnelizzati possono o possono non essere cuffiabili in questo punto sono in genere dei grossi cateteri bilume che vengono utilizzati prevalentemente per la dialisi a medio-lungo termine laddove non è possibile confezionare una fistola arterovenosa vedete chiaramente come questi cateteri non possono e non devono essere utilizzati per infondere farmaci o soluzioni ma solo esclusivamente per la dialisi con una linea venosa ed una linea arteriosa che non sono intercambiabili l'ultimo dispositivo che dobbiamo conoscere è il cosiddetto portacat si tratta di un catetere venoso centrale totalmente impiantabile dotato di un reservoir che di fatto è protetto da una membrana ungibile con un agua d'uncino e questi sono dei dispositivi che tipicamente vengono utilizzati anche se oggi molto meno frequentemente rispetto al passato in pazienti che devono effettuare prolungati cicli di chemioterapia chiaramente essendo dei dispositivi totalmente impiantabili a priori il rischio di infezione è più basso tuttavia spesso vengono utilizzati in maniera impropria lasciando in situ il lago aduncino che quindi attraversa la cute del paziente e quindi mette in comunicazione di fatto il compartimento intravascolare con la superficie corporea del paziente e quindi sono anch'essi potenzialmente suscettibili di infezione la rimozione di un dispositivo portacat richiede di fatto l'intervento di un medico specializzato non può essere effettuata diciamo da un semplice medico o da un semplice internista in questo studio interessante è stata valutata la incidenza di infezioni batteriemiche correlata a ciascuna di queste diverse tipologie di cateteri cominciamo a vedere che i semplici cateteri venosi periferici quelli che possono essere posizionati a livello dell'avambraccio e stanno 3-4 giorni in genere dopo 3-4 giorni è opportuno cambiarli sono di fatto i cateteri associati a minor rischio di batteriemia per la loro dimensione per la loro collocazione non è facile comprenderlo probabilmente anche a seguito del fatto che vengono cambiati frequentemente tuttavia se andiamo a vedere il tasso di infezione per mille giorni di permanenza di questo tipo di cateteri siamo comunque a valori bassi tendenzialmente più bassi di gran parte degli altri cateteri che prendiamo in considerazione un tasso di infezione piuttosto elevato c'erano i cateteri arteriosi quelli che vengono utilizzati prevalentemente in terapia intensiva per il monitoraggio emodinamico che spesso rappresentano anche la linea attraverso la quale viene ottenuto il sangue arterioso per i campionamenti seriati in questo tipo di soggetti guardate che differenza che c'è nella incidenza di infezione tra i midline che sono dei peak più corti che arrivano nella ascella e i peak siamo a 2.4% di per ogni 100 peak che vanno incontro che determinano un problema di infezione batteriemica contro soltanto lo 0.4% per i cateteri midline l'incidenza di infezione sale invece in maniera significativa quando prendiamo in considerazione i cateteri venosi centrali a breve termine siamo a 4.4% dei cateteri con una significativa proporzione e incidenza di casi per mille giorni di permanenza di questi cateteri nel compartimento intravascolare molto più alto il numero di cateteri a lungo termine che si infetta vedete nell'esperienza di questi ricercatori praticamente oltre un catetere su 5 il fiato tunnelizzato va incontro ad infezione però bisogna considerare anche il fatto che questi cateteri per loro stessa natura per mango il torrente circolatore è molto più a lungo infatti se andiamo a guardare l'incidenza normalizzata per mille giorni di permanenza di fatto questi cateteri non si associano assolutamente ad una maggiore incidenza di infezioni come pure non si associano ad una maggiore incidenza di infezioni i portacati quindi più complessi da impiantare ma sicuramente più sicuri per il paziente tutti questi cateteri tutti i cateteri che emergono dalla cute del paziente in genere vengono chiusi al loro estremo distale chiedo scusa al loro estremo prossimale da questi tappini che sono dei tappini considerati di sicurezza perché rendono possibile attaccare le fleb senza di fatto utilizzare nessun tipo di ago nessun tipo di dispositivo che possa potenzialmente esporre a un rischio il personale il problema è che questo tipo di tappini a mio avviso rappresentano una delle fonti uno dei veicoli una delle cause più importanti di infezioni endoluminali intraluminali dei cateteri venosi centrali perché perché non vengono utilizzati in maniera adeguata la maniera adeguata di utilizzarli è quella come mostrato in questa immagine di sterilizzarli con una selvettina imbevuta di colorexilina alcolica prima di qualsiasi infusione quindi prima di andare a collegare con tecnica lure lock qualsiasi linea di infusione a questi tappini che coprono i cateteri venosi centrali allora laddove non sono disponibili questi dispositivi dove c'è un carico eccessivo per gli infermieri è preferibile utilizzare questi semplici tappini che di fatto impediscono di collegare la linea di infusione senza rimuovere il tappino e che possono essere facilmente poi sostituiti andando a chiudere il rubinetto del cateteri venoso centrale sistematicamente ad ogni utilizzo con un tappino nuovo pulito pre-confezionato vediamo rapidamente quali sono le principali voi riuscite a vedere l'intestazione della mia diapositiva io non la vedo cosa intende prof per l'intestazione l'intestazione il titolo della diapositiva cateter related bloodstream infection esatto si 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 vede allora perfetto ok ok qui vediamo una raccolta casistica che ci mostra qual è più o meno recentemente l'iziologia delle infezioni l'iziologia microbica e le infezioni catetere collegate infezioni batteriemiche e catetere collegate vedete che prevalgono i cocchi gram positivi questa è un'epidemiologia che ricorda un po' altre infezioni batteriemiche come ad esempio l'endocardina abbiamo tutti gli stafilococchi diversi dallo stafilococco aureo i cosiddetti coagulasi negativi abbiamo lo stafilococco aureo e abbiamo gli enterococchi come categorie di cocchi gran positivi principali come generi di cocchi gran positivi che primariamente causano questo tipo di poi vediamo un ruolo importante devo dire da parte mia sorprendentemente elevata come prevalenza di candida poi c'è un ruolo minore ma non di scarsa importanza dei bacilli gram negativi ora è importante sottolineare che differenti tipologie di pazienti tendono ad avere una specifica eziologia microbica ad esempio se noi sospettiamo che il paziente per esempio perché è un emodializzato oppure il paziente sta facendo infusione per chemioterapia ha una infezione che deriva direttamente dalla flora microbica presente a livello dell'acute dobbiamo sicuramente ipotizzare nella fase di terapia empirica iniziale questa infezione sia causata da stafilococchi viceversa se il paziente è in terapia nutrizionale parenterale totale dobbiamo sicuramente mettere in cantiere la possibilità che l'infezione sia sostenuta da una candida ancora se ci troviamo di fronte a soggetti che hanno neoplasie ematologiche o non ematologiche diviene più elevata la probabilità che essi abbiano un'infezione sostenuta da enterobatteri clebsiella e serichiacoli o enterobacter se ci troviamo di fronte a pazienti che hanno condizioni di particolare immunocompromissione per esempio i neutropenici oppure i pazienti che sono stati ricoverati per ustioni è importante che teniamo in considerazione la possibile possibile ruolo causale nell'infezione di pseudomonas aeruginosa molti studi hanno valutato un po' l'andamento temporale di queste infezioni sia in un contesto di terapia intensiva che al di fuori della terapia intensiva alcuni studi hanno dimostrato come ad esempio questo che negli ultimi 20 anni si è osservato progressivamente un aumento del ruolo dei bacilli gramme negativi nelle infezioni batteriemiche catetere correlate e una contestuale riduzione percentuale proporzionale del ruolo dei cocchi gramme positivi più recentemente questi dati di fatto non sono stati confermati in questo studio effettuato abbastanza recentemente in Svizzera quindi in un contesto non troppo differente da quello del nostro paese vedete che sostanzialmente al di là di una significativa riduzione dell'incidenza di infezioni da stafilococchi coagulasi negativi verosimilmente legata ad una migliore aderenza alle buone pratiche di gestione dei cateteri di fatto le altre ziologie microbiche rimangono sostanzialmente stabili nel tempo uno dei problemi principali che si pone al clinico che gestisce un paziente portatore di un catetere volucentrale che ha febbre e che fatte delle emoculture ha le emoculture positive è l'infezione è a partenza dal catetere e quello di comprendere se l'infezione è o meno a partenza dal catetere cioè si può scrivere la batteriemia al catetere penoso centrale in quest'ambito uno dei criteri non il solo ma uno dei criteri ancora abbastanza solido alla luce delle evidenze più recenti che può suggerire al clinico che si quella in batteriemia quell'infezione batteriemica è originata da un catetere penoso centrale è il differential time to positivity positivity di che cosa? Positività delle emoculture cioè il tempo differenziale di positivizzazione delle emoculture perché si può valutare questo tempo differenziale? Perché nei pazienti in cui c'è un catetere venoso centrale quale che sia quale che sia una di queste tipologie di catetere che vi ho mostrato e che ha febbre ogni qual volta ci troviamo in questo contesto noi siamo obbligati a fare almeno due set di emoculture essendo un set di emoculture un prelevo che comprende un barattolo come qui vedete per anaerobi e un barattolo per aerobi un set dal catetere venoso centrale un set d'avena periferica ebbene inviati questi due campioni o meglio queste quattro boccette ma di fatto sono due set sono due campioni al laboratorio di microbiologia il laboratorio di microbiologia incuberà questi campioni e ci segnalerà la positivizzazione se possibile in tempo reale o nei tempi più brevi possibili quasi sempre quando l'infezione origina a livello intraluminale dal catetere venoso centrale l'emocultura ottenuta dal catetere venoso centrale si positivizza prima dell'emocultura ottenuta da vena periferica ora se l'intervallo temporale che vi è tra la positivizzazione di questa emocultura e la positivizzazione di questa emocultura è superiore o uguale a due ore su questa base noi possiamo fortemente sospettare che l'infezione si origini dal catetere venoso centrale in realtà questo dato è emerso molto tempo fa da uno studio importante pubblicato sull'ANSET nel lontano 1999 era stato effettuato in una unità di terapia intensiva quindi in un set un po' diverso da quello medico internistico o anche di medicina d'urgenza e in un ospedale che era un centro di riferimento per la terapia delle neoplasie quindi diciamo facciamo attenzione a quando vediamo dati provenienti da studi che non sono stati effettuati in un contesto clinico che è simile a quello nel quale operiamo facciamo attenzione a traslare automaticamente nella nostra pratica clinica i risultati di questi studi erano stati rimossi 93 cateteri a tutti i pazienti erano state fatte simultaneamente emocolture dal catetere e dalla vena periferica e sostanzialmente il differential time to positivity di queste coppie di colture era significativamente più alto in pazienti che avevano una documentata infezione catetere correlata con una significatività statistica abbastanza evidente qual è il gold standard in questo studio la positività della cottura del catetere una volta rimosso sulla base dei dati di questo studio viene identificato questo cutoff di due ore di 120 minuti per cui alla luce di questo cutoff si ritiene che vi sia una specificità superiore al 90% una sensibilità ben superiore al 90% e la diagnosi di infezione batteriemica possa essere considerata l'infezione catetere o relac ci sono tuttavia alcuni problemi il primo abbiamo parlato di cateteri a due o a tre lumi e allora quando noi ci troviamo a dover fare un'emocoltura da catetere quale lume dobbiamo scegliere? nessuna linea guida nessuna expert opinion nessuna raccomandazione ci guida nella scelta in linea teorica se dobbiamo ragionare noi dovremmo effettuare in un catetere a due o a tre lumi tre set o due set di emocolture un set da ciascun lume del catetere perché se un catetere è infetto a livello intraluminale potrebbe essere infetto soltanto a livello di uno dei lumi ma non necessariamente a livello di altri lumi e inoltre è importante sottolineare che non per tutti i microorganismi avvalenza realmente il concetto della predittività del differential time to positivity e questo dato è emerso in maniera molto clara dallo studio molto più ampio molto più generalista di pazienti con infezione batteriemica portatori di catetere venoso centrale vedete in questo studio al termine del work up c'erano 500 e più episodi inclusi nell'analisi circa il 60% dei pazienti rientravano in una diagnosi di batteriemia catetere correlata il restante 41% batteriemia non catetere correlata se andiamo a guardare alle diverse condizioni di rischio l'unica che si associa positivamente alla forma catetere correlata e l'emodialisi ma che era una condizione vedete osservata soltanto in una sparuta minoranza di pazienti inclusi in questo studio viceversa gran parte delle altre condizioni per esempio la presenza di cirrosi epati ad un trapianto d'organo suodi shock esettivo si associavano ad una batteriemia non catetere correlata altro dato interessante emergeva da questo studio vedete è relativo alla mortalità 30 giorni quindi una mortalità precoce ospedaliera significativamente più bassa quando la batteriemia è partenza da un catetere venoso centrale l'eziologia microbica è invece significativamente diversa vedete che prevalgono le forme catetere correlate i coagulasi negativi rossafilococco tendono ad essere invece molto più importanti i patogeni che albergano fisiologicamente nel tubo digerente come scherichia coli clebsiella ed enterococchi nelle forme non catetere correlate questo studio emerge un dato abbastanza chiaro che voi vedete e cioè che il differential time to positivity era molto più ampio nei soggetti con forme catetere correlate rispetto ai soggetti con forme non catetere correlate ma questa differenza non era valida per tutti i patogeni come potete vedere in questa curva ROC che è la curva che descrive la predittività diagnostica del test la presenza di differential time to positivity superiore a due ore nei confronti di una diagnosi di batterimia catetere correlata vedete che cumulativamente l'area sotto la curva e la linea nera è piuttosto scarsa e piuttosto bassa e in particolare la predittività del differential time to positivity è piuttosto elevata e direi molto statisticamente significativa soltanto per lo pseudomonas seruginosa e per alcune forme antibiotico resistenti di enterobatteri mentre invece non lo è significativamente per gli enterococchi per lo safilococcuario e per i coagulasi negativi questo studio ci insegna sostanzialmente che noi sia pure nel legittimo tentativo di semplificare il ragionamento diagnosico non possiamo dire differential time to positivity maggiore di due ore equivale infezione catetere correlata e quindi andiamo a togliere questo catetere pertanto è importante sottolineare che un test negativo cioè un test nel quale non c'è la differenza questo è ancora più importante quindi da un lato non dobbiamo correre a togliere il catetere se non abbiamo certezze dall'altro se il differential time to positivity è inferiore a due ore noi non siamo in grado in questo momento di utilizzare questo elemento per escludere l'infezione catetere correlata almeno quando le emoculture sono positive per safilococchi coagulasi negativi e per enterococchi ci sono degli altri criteri tuttavia direi molto clinici molto clinicamente rilevanti che noi possiamo utilizzare per orientarci sulla genesi della batteremia a partenza da un catetere venoso centrale uno di questi è la febbre che consegue all'utilizzo del catetere una cosa che noi osserviamo abbastanza frequentemente dei pazienti emodializzati il paziente emodializzato tipicamente dializza tre volte a settimana e spesso ogni volta che dializza nelle ore successive in genere quando è già tornato al proprio domicilio ha dei brividi ha un rialzo febbile non dobbiamo attenderci necessariamente un quadro clinico eclatante in questi soggetti ora il fatto che questi soggetti siano apiretici nell'intervallo interdialitico e abbiano degli episodi febbili poco dopo la seduta dialitica ci deve suggerire la possibile presenza di un infezione del catetere questo lo possiamo osservare non soltanto negli emodializzati ma anche ad esempio nei soggetti che fanno chemioterapia il soggetto va in ospedale fa la dose di chemioterapia fa il lavaggio del portacatto torna a casa la febbre poi successivamente nei giorni successivi la febbre regredisce e non c'è più problema per poi osservare di nuovo l'episodio febbrile alla successiva infusione di chemioterapia questo chiaramente è un criterio sensibile dal punto di vista diagnostico ma sicuramente non lo possiamo considerare altamente specifico è ovviamente sempre importante ispezionare direi nel paziente ospedalizzato quotidianamente il sito di inserimento del catetere venoso centrale perché se ci sono segni di suppurazione infiammazione o una franca flebite della vena a valle del sito di inserimento del catetere questo è sicuramente un criterio che ci può suggerire la presenza di una infezione catetere correlata quindi di fronte a una condizione del genere come mostrata in questa immagine abbiamo sicuramente un elemento diagnostico specifico ancorché poco sensibile perché l'infezione può essere esclusivamente intraluminale senza un coinvolgimento flogistico della cute nel sito di inserimento che dobbiamo tuttavia tenere in considerazione questo è un altro criterio a cui io do molta valenza molta importanza cioè spesso capita che soggetti con episodi febbrili ricorrenti di dubbia genesi abbiano ripetutamente emoculture positive per lo stesso microorganismo ora se un soggetto ha un catetere venoso centrale che viene ritenuto e a distanza di settimane o di mesi ha batterie mie sostenute dallo stesso microorganismo noi dobbiamo necessariamente sospettare in maniera forte che la sede di localizzazione primaria del microorganismo sia il catetere venoso centrale questo è un esempio in un paziente visto da noi vedete che a luglio all'emocultura positiva di stafilococchi epidermis ad agosto diversi giorni dopo continua ad avere l'emocultura positiva per questo microorganismo e poi la punta del catetere pure risultò positiva per lo stesso microorganismo questo è sicuramente un criterio diagnostico altamente specifico e anche altamente sensibile è chiaro che la diagnosi definitiva viene dalla coltura che risulta positiva della punta del catetere rimosso e questa coltura può essere effettuata con un metodo quantitativo o semi quantitativo il primo metodo che è un metodo di fatto semi quantitativo è il cosiddetto metodo di Machi o Roll Plate si tratta di posizionare l'estremo distale del catetere rimosso che viene inviato in laboratorio a secco ma deve essere diciamo portato in laboratorio rapidamente lo si fa rotolare 3-4 volte a destra a sinistra su una piastra di preti successivamente si vanno a contare le colonie e si verifica se c'è un numero di colonie sufficiente da poter suggerire la presenza di una effettiva colonizzazione di un'effettiva infezione del catetere qual è il problema di questa tecnica che tende prevalentemente a evidenziare batteri che sono stratificati esternamente al catetere quindi un'infezione che ha avuto una diffusione extraluminale e non intraluminale se invece noi vogliamo ottenere un esame microbiologico che sia indicativo della presenza di una contaminazione batterica intraluminale allora quello che dobbiamo fare dobbiamo prendere un estremo di stale di circa 5 cm e su questo punto dovremmo essere dovremmo standardizzare la nostra metodica di agnose inserirlo in un tubo sterile ripieno o di soluzione fisiologica o di brain art infusion che è un brodo di coltura arricchito e multispecifico successivamente questo catetere anche frammentato in più parti per esempio 5 frammenti da un centino può essere sottoposto a sonicazione la sonicazione disperde distrugge il biofilm batterico e poi una piccola aliquota 50 o 100 microgrammi di questo brodo nel quale abbiamo vortexato e abbiamo scusatemi abbiamo vortexato e abbiamo sonicato il catetere una piccola quota di questo brodo di coltura può essere insemenzato su una piastra di agarsangue per poi ottenere a distanza di 24-48 ore una coltura quantitativa i cut-off che attualmente sono utilizzati per definire positiva la coltura di una punta di catetere sono per la coltura semi-quantitativa un numero di unità formanti colonie per ml superiore a 15 per il metodo del rotolamento del catetere sulla piastra viceversa sono necessarie almeno 100 unità formanti colonie per segmento di catetere con la tecnica della sonicazione dell'insemenzamento con brodo di coltura con soluzione fisiologica per quando vogliamo appunto pervenire ad una diagnosi di certezza di infezione catetere correlata vi ricordo che l'esempio che vi ho mostrato all'inizio aveva mostrato una positività maggiore di 1000 unità formanti colonie per catetere quindi sicuramente una carica batterica a livello dell'estremo distale del catetere particolarmente elevato e questi sono i dispositivi che noi utilizziamo in ospedale sono dei piccoli delle piccole provette con brodo di coltura all'interno delle quali si può mettere l'estremo distale del catetere vediamo adesso quale può essere un approccio terapeutico in particolare nella fase empirica iniziale quando ci troviamo di fronte al paziente che ha un quadro clinico fortemente suggestivo di una infezione batteriemica a catetere correlata e comunque prima di avere le emoculture positive perché quando poi abbiamo un report della microbiologia con l'antibiogramma con l'isolamento e l'antibiogramma è chiaro che lì poi entriamo in un ambito di terapia patogen direct quindi mirata al patogeno che diciamo esula da quelli che sono gli obiettivi di questo seminario sicuramente sono una serie di elementi che dobbiamo prendere in considerazione quando dobbiamo stabilire quale trattamento instaurare nei nostri pazienti la prima è rappresentata come sempre dalle condizioni cliniche del paziente c'è una grossa differenza tra un paziente clinicamente stabile e un paziente che mostra segni e sintomi di sepsi nel primo caso del paziente stabile potremmo teoricamente anche limitarci ad infondere fluidi e attendere la risposta della microbiologia per fare direttamente un trattamento mirato se il paziente è sentito la terapia antibiotica va instaurata al più presto possibile dobbiamo prendere in considerazione la presenza di comorbidità in particolare malattia renale ed epatica al fine di evitare l'utilizzo di farmaci antibiotici che sono tossici per questi reni ma anche per stabilire in maniera più appropriata il dosaggio da somministrare al paziente è molto importante fare nel singolo paziente la valutazione del rischio di infezione da microrganismo multiantibiotico resistente ritornando alla vignetta iniziale che vi avevo fatto quella era una paziente che aveva fatto una prima chirurgia per motivi oncologici successivamente era stata rioperata a livello addominale per ascessi intraddominali poi aveva sviluppato un empiema pleurico veniva da 14 giorni terapia antibiotica per germi multiresistenti gram negativi è chiaro che quella era una paziente nella quale nel sospetto di infezione batteriemica catetere correlata non potevamo non prendere in considerazione la possibilità che ci fosse un germe multiantibiotico resistente e invece poi nella realtà è stato un germe multiantibiotico sensibile ma in quella paziente il rischio a priori era particolarmente elevato dobbiamo conoscere l'epidemiologia locale dei nostri ospedali in termini sempre di tasso di incidenza di patogeni multiantibiotico resistenti dobbiamo conoscere i fattori di rischio del paziente come già detto al fine di mirare sul patogeno che più probabilmente è alla base dell'infezione quindi ritornando un po' a quel paradigma che vi avevo mostrato prima quello che possiamo ritenere di fare se ci troviamo di fronte a un soggetto che verosimilmente ha avuto una contaminazione da germi cutane è sicuramente coprire gli stafilococchi perché no anche gli enterococchi e gli streptocchi quindi ci dobbiamo rivolgere a molecole come i glicopeptidi tecoplanina vancomicina come l'adaptomicina oppure come le cefarospoline di quinta generazione anti-MRSA attive sullo stafilococco meticilino resistente come ceftalurina o ceftobiprol se ci troviamo di fronte a un soggetto che ha fattori di rischio per gramme negativi perché è un paziente oncologico e allora a seconda della gravità clinica dovremmo partire con un carbapenemico oppure con piperacilina tanzobacta oppure con una cefalospolina di terza generazione se sospettiamo un'eziologia da pseudomonas perché il soggetto è neutropenico oppure è ricoverato a seguito di ustioni e allora per lo pseudomonas le molecole che possiamo utilizzare in fase empirica sono carbapenemi piperatazzo e le cefalospolini terza e quarta generazione oppure anche il cetolozano tanzobacta che però è una molecola che noi tendiamo a utilizzare molto più in terapia mirata piuttosto che in terapia empirica e poi nel soggetto che è in terapia nutrizionale parenterale totale dovendo coprire anche per il microorganismo fungino una echinocandina come la nidula o la caspofungina l'anfotelicina biliposomiale o il fluconazono possono essere opzioni terapeutiche da prendere in considerazione è chiaro che il cardine poi della gestione di questi pazienti è rappresentato dalla rimozione del catetere quindi facciamo l'esame microbiologico se il paziente è stabile non abbiamo certezza che l'infezione è catetere correlata riteniamo il catetere e valutiamo le risposte degli esami microbiologici se abbiamo ragionevole certezza che l'infezione catetere correrà il catetere deve essere rimosso tuttavia trattando di infezione batteriemica dobbiamo conoscere quale è la durata della terapia dopo la rimozione del catetere e allora il ragionamento si fonda in questo caso sulla tipologia di catetere che prendiamo in considerazione se siamo di fronte a un catetere arterioso o un catetere venoso centrale short term e qui ovviamente in questa categoria rientrano anche i peak e i midline dobbiamo comprendere se l'infezione è un'infezione complicata o non complicata cosa significa che l'infezione si è complicata significa che l'infezione si è diffusa ad altre strutture native che persistono ovviamente alla che permangono anche dopo la rimozione del catetere venoso centrale è il caso di soggetti che sviluppano a seguito della batterimia catetica correlata una tromboflippite esettica una endocardite non soltanto e non necessariamente del cuore destro anche del cuore sinistro una osseomirite oppure ad esempio una spondilodiscite in questo caso bisogna trattare i pazienti in genere per 4-6 settimane se c'è un osseomirite verosimilmente anche per più tempo se invece la batterimia non è complicata perché la febbre si risolve rapidamente una volta rimosso il catetere il paziente non ha condizioni di rischio particolare non ha neoplasia maligna non ha una condizione di immunocompromissione e non ha corpi estranei a livello endovascolare quindi non ha protesi non ha pacemaker non ha alcuna evidenza di endocardite o di una tromboflippite suppurativa e allora in questo caso se il patogine isolato è uno stafilococquario dobbiamo trattare secondo le linee guida ancora correnti perché non ce ne sono di più recenti per almeno 14 giorni se invece ci troviamo di fronte a un coagulasi negativo possiamo trattare anche per meno tempo 5-7 giorni sono spesso sufficienti se dall'emocoltura emerge un enterococco trattiamo per 7-14 giorni ma anche qui dobbiamo escludere l'endocardite essendo enterococco germe tipico di endocardite se le emocolture risultano positive per bacilli grammi negativi trattiamo anche qui per una-due settimane se le emocolture sono positive per candida trattiamo per almeno 14 giorni dopo la prima emocoltura negativa successiva alla rimozione del catetere questo concetto mi ricorda di sottolineare un aspetto molto importante nel momento in cui noi abbiamo rimosso il catetere e iniziato una terapia tranne che in casi particolari in quale il paziente sta particolarmente bene come condizioni può essere opportuno a 24-48 ore ripetere un set di emocoltura dall'avena periferica per documentare la clearance del sangue il fatto che sostanzialmente il paziente non è più batterie teniamo presente che molto di questo algoritmo si basa su expert opinion ma non invece su una robusta evidenza da trial clinici se invece l'infezione è correlata a un catetere a lungo termine ad esempio è un'infezione che appare a noi da un punto di vista clinico complicata così come abbiamo declinato precedentemente c'è un'infezione anche del tunnel sottocutaneo un ascesso del sito di posizionamento del porte allora bisogna trattare per almeno 7-10 giorni l'infezione di cute e tessuti molli che esita la rimozione del patetere se c'è una trombofribite esettica o un endocardito osseomilite la durata del trattamento come abbiamo detto è molto più lunga anche qui per quanto riguarda le forme non complicate la durata del trattamento si basa sull'eziologia microbica se è isolato uno stafilococco aureo attenzione il trattamento è suggerito per 4-6 settimane come se fosse una endocardite come se fosse una trombofribite esettica se emerge un coagulasi negativo il trattamento può essere più breve 10-14 giorni in caso di positività dell'emocultura per entrococco la terapia va portata avanti per una o due settimane similmente una o due settimane per i bacilli grammi negativi il trattamento la durata del trattamento per un'infezione da candida è sostanzialmente lo stesso almeno 14 giorni dopo l'ultima coltura positiva a meno che non ci siano segni di localizzazione endovascolare nella candida anche qui dati assolutamente non basati su robuste evidenze se ci troviamo di fronte a un catetere per dialisi tonnellizzato e il soggetto ha una febbrica o una febbre dopo l'utilizzo allora effettuiamo le emoculture da catetere e da vena periferica iniziamo terapia antibiotica e possiamo già partire con una lock therapy cioè con una terapia nella quale andiamo a inserire piccoli volumi di soluzione antibiotata associata anche ad eparina all'interno del lume del catetere dopo l'utilizzo se di fronte a questa condizione si ha una risoluzione rapida della batterimia o della fungemia nell'arco di uno o due giorni sostanzialmente possiamo ritenere il catetere mantenere il catetere a meno che non emerga dall'emoculture la presenza di stafilococco in tal caso dobbiamo rimuovere il catetere in osocentrale effettuare almeno tre settimane di terapia antibiotica e poi effettuare un ecocardiogramma transesofageo per escludere che ci sia stata una localizzazione a livello delle valvole cardiache se dall'emocultura emerge un ceppo coagulasi negativo il trattamento deve durare almeno 10-14 giorni si può pensare di ritenere il catetere venoso centrale oppure effettuare una cosa diversa cioè sostituire sul filo guida quindi in maniera meno invasiva per il paziente il catetere venoso centrale se dall'emocultura emerge la presenza di bacilli gramme negativi il trattamento è per 10-14 giorni quindi vedete che quando il catetere tunnelizzato in un soggetto emodializzato la tendenza è a fare cicli di terapie più prolungati anche qui si può provare a ritenere il catetere oppure a sostituirlo su filo guida diversa è la situazione quando c'è una candida o c'è una candida bisogna sempre sostituire il catetere noto centrale eventualmente anche su filo guida e somministrare poi una terapia antifungina per almeno 14 giorni se in un soggetto che ha iniziato una terapia antibiotica empirica più una lock therapy all'interno del catetere si osserva una persistente batterimia fungemia e febbre allora bisogna rimuovere il catetere sempre e somministrare antibiotici per almeno 4-6 settimane andando a fare un work up diagnostico specifico per la possibile complicanza di infezioni metastatiche come la tromboflebite esettica e l'endocardite se le emoculture invece risultano negative si possono sospendere gli antibiotici e si mantiene ovviamente il paziente in follow up anche questo algoritmo non è basato su robusti dati provenienti dalla letteratura quando è che il catetere deve essere sempre dimosso quando il paziente si presenta con sepsi c'è una tromboflebite esettica con endocardite o quando la batterimia è persistente nonostante almeno 72 ore di terapia antibiotica empirica e mirata va sempre dimosso il catetere quando le emoculture sono positive per stafilococco aureo pseudomonas seruginosa funghi e micobatteri vanno sempre dimossi i cateteri venosi short term e quando le infezioni sono causate in questo setting da gram negativi da aureo da enterococchi da funghi e da micobatteri l'ultimo concetto prima di concludere è che vi vorrei lasciare è il rischio della trasmissione dell'infezione da un dispositivo ad un altro in particolare da un catetere ad un altro c'è una forte propensione da parte soprattutto degli anestesisti gli animatori ma anche di altri clinici a reperire prima un altro accesso vascolare quindi con l'impianto di un nuovo catetere prima di rimuovere un vecchio catetere che è infetto documentatamente o anche soltanto caratterizzato da sospetto di infezione quello che con questa prassi può sostanzialmente complicare la situazione clinica con quello che io ho definito il cosiddetto effetto tarzan cioè una condizione nella quale il batterio da un catetere infetto allora quando si rende disponibile nel torrente circolatorio spesso nelle vicinanze del catetere infetto un altro catetere tende vedete a passare da un catetere all'altro una volta localizzatosi a livello di questo catetere con delle adesine che sono estremamente efficienti il catetere rapidamente si unisce il batterio rapidamente si unisce ad altri microorganismi andando a formare una colonia ricca di biofilm è quello che è accaduto recentemente in un paziente che abbiamo dovuto ricoverare proveniente dalla cardiologia dei trapianti il quale era in una fase di scompenso di una grave cardiopatia dilatativa vedete anche portatore di un defibrillatore biventricolare ed era continuamente trattato con inotropi per via endovenosa utilizzando cateteri venosi centrali che venivano ripetutamente cambiati veniva messo prima a destra aveva l'episodio batteriemico con febbre poi veniva messo un catetere a sinistra e veniva rimosso il catetere a destra vedete questo è l'andamento degli suoi esami colturali paziente ricoverato da ottobre fino a febbraio paziente ha ripetuti episodi di infezione batteriemica sempre sostenuti da safilococca epidermitis multiantibiotico sensibile fino a quando viene ricoverato trasferito nel nostro reparto dove noi facciamo una cosa che teoricamente era la cosa giusta cioè rimuoviamo il catetere venoso centrale e inseriamo un midline abbiamo visto i dati a supporto del fatto che questi sono cateteri che tendono a infettarsi un po' di meno questo soggetto continua ad essere batteriemico per lo stesso microorganismo vedete ancora emoculture positive a distanza anche di nove giorni dalla rimozione del CVC dall'impianto del midline finalmente si decide di rimuovere anche il midline perché poi nel frattempo il paziente era migliorato da un punto di vista clinico e si ottiene una persistente ancora oggi persistente negativizzazione delle emoculture e chiaramente noi ci muoviamo in un contesto nel quale i pazienti sono alle volte portatori non soltanto di cateteri ma anche di altri dispositivi vedete questa è una paziente che io ho curato che aveva impiantato una TAVI a seguito dell'impianto della TAVI era andata in insufficienza renala acuta per cui aveva dovuto iniziare la dialisi con un cateteri sempre a seguito dell'impianto della TAVI aveva sviluppato un blocco atrioventricolare completo che aveva richiesto un impianto di un pacemaker questa signora poco tempo dopo questa ospedalizzazione si presentò con una fase 7 con emoculture positive per stafilococco epidermis metricidino resistente assenza di vegetazione sulla TAVI sostanzialmente è deceduta per le complicanze di questa infezione che aveva coinvolto tutti e tre questi dispositivi a destra e a sinistra del cuore la presentazione di queste infezioni CVC correlate può mimare quella di un endocardite vedete questo è un paziente con un'infezione CVC correlata che si presentò con noduli di Osler e lesioni di Janeway mi fermerei qui perché abbiamo fatto parecchio ci sono ancora dei minuti che abbiamo a disposizione e avrei piacere di dedicare questi ultimi minuti se voi siete d'accordo ad eventuali domande grazie mille prof grazie per averci offerto questa panoramica e per averci fatto comprendere quanto complesso può essere talvolta la gestione di questi pazienti invito tutti quanti i partecipanti a fare domande a rendersi parte attiva della discussione vediamo possono sfruttare anche la chat se non vogliono interagire con il microfono c'è già una domanda da parte di Simo forse l'ha indirizzata soltanto a me non so se tu la vedi che mi chiede quindi non è sempre mandatorio rimuovere il CVC o PIC o midline grazie allora esistono dei contesti nei quali può essere almeno ritardato o non immediatamente rimosso il catetere immunosucentrale innanzitutto paziente stabile microorganismo non particolarmente virulento ma magari paziente con comorbilità molto significative che rendono ad esempio troppo rischioso il reperimento di un altro accesso vascolare facciamo un esempio paziente che arriva squagulato è portatore di una protesi meccanica ed è anche portatore di un catetere a lungo termine allora è chiaro che in quando non si riesce a riportare a valori accettabili l'INR quello è un paziente del quale tu intendi a ritenere il catetere ci sono pazienti che hanno per esempio delle neoplasie particolarmente avanzate con una scarsa aspettativa di vita allora in questi casi una terapia antibiotica iniziale seguita da una lock therapy può rappresentare diciamo una strategia utilizzabile in un contesto del genere in tutti gli altri casi allora quando si prevede che sarà possibile successivamente al completamento dell'interterapeutico reperire un altro accesso vascolare è sempre preferibile rimuovere il catetere quando si decide di rimuovere il catetere è bene rimuoverlo quanto prima è bene rimuoverlo quanto prima una cosa che io ricordo sempre ai miei colleghi se un soggetto arriva con un catetere venoso perifericamente inserito ma quindi per esempio con un picco comunque con un altro tipo di catetere tunnelizzato verosimilmente quello è un soggetto che non ha avuto utilizzo delle vene periferiche a livello degli arti superiori e degli arti inferiori quindi la probabilità che si riesca a reperire almeno per qualche giorno un accesso venoso periferico attraverso il quale fare terapia anche fare un po' di nutrizione in attesa di stabilizzare il paziente per poi reinserire a verificata eliminazione del batterio della sangue quindi una volta verificata che le emoculture si sono negativizzate e reperire un nuovo accesso vascolare è chiaro che spesso questo si riesce a fare ok abbiamo anche un'altra domanda sull'antibiotic lock therapy le viene chiesto se è una metodica terapeutica appannaggio esclusivo dei CVC per dialisi o se può essere anche utilizzata per altri tipi di CVC allora è chiaro che il CVC per dialisi a tutti i tesi o sono cateteri più complessi da inserire e più complessi anche da rimuovere inoltre la dialisi è una procedura salvavita frequentemente il paziente emodializzato ha uno scarso patrimonio venoso che si offre all'impianto di un nuovo catetere non infrequentemente i nostri pazienti che arrivano con infezioni di tesio hanno occlusione di uno o più bene femorali spesso hanno già fatto esperienza di un catetere in un'altra vena giugolare per cui se tu togli dalla giugolare interna sinistra per esempio di fatto non hai possibilità di inserire un altro catetere questo è molto importante prima di togliere un catetere per dialisi verifichiamo in maniera precisa se c'è spazio per inserirlo in un'altra vena centrale che si offre alla disponibilità dell'interventista e sicuramente in questi casi la lock therapy può anche essere vista come un bridge to decision nel momento in cui tu hai l'impossibilità di procedere alla dimozione puoi fare una terapia sistemica associata a una lock therapy prendere tempo attendere che il paziente si stabilizzi per poi passare ad una decisione definitiva ad esempio quello che si può fare in un soggetto del genere è quello di confezionare una fissola arterovenosa molti pazienti arrivano con un catetere tunnelizzato senza aver mai provato a confezionare una fissola arterovenosa e allora noi sappiamo che occorrono almeno 25-30 giorni perché una fissola arterovenosa maturi in quell'asso temporale in linea teorica è possibile ritenere un catetere per dialisi infetto per poi rimuoverlo subito non appena la fissola arterovenosa è matura devo però anche dire che ho visto un caso di una arterite della fissola arterovenosa in un soggetto che aveva un'infezione di un tesio e il quale peraltro aveva iniziato a dializzare dalla fissola arterovenosa ma che per motivi che mi sfuggono in questo momento continuava a risultare portatore del catetere di tesio per dialisi ok e un'altra domanda che riguarda però diciamo il ruolo dell'ecocardiogramma transtoracico o eventualmente transesofage nel paziente con batteria da stapilococco aureo se possiamo basarci su un transtoracico ma ripetuto a distanza per escludere l'endocardina infettiva o se dobbiamo fare sempre riferimento al transesofage sì allora questo è un tema molto importante che io volutamente non ho trattato non ho inserito perché avrebbe richiesto una trattazione un po' più lunga in estrema sintesi esistono degli score che ci consentono di stimare stimare la probabilità che in presenza di una batteria da stapilococco aureo si possa essere realizzata anche una endocardite laddove questi score mostrano un punteggio elevato quindi un'alta probabilità è indicata l'effettuazione di un ecocardiogramma transesofageo gli score più comunemente utilizzati sono il VIRSTA che è stato derivato da ricercatori francesi e il PREDICT che invece è stato creato sviluppato da ricercatori degli Stati Uniti insegnatamente della Mayo Clinic in estrema sintesi i soggetti che portatori di un catetere venoso centrale si presentano a batteria da safilococco aureo e che hanno un soffio all'auscultazione cardiae una valvola protesica un altro dispositivo endovascolare che hanno una batteria prolungata cioè che dura almeno 72 ore quindi fanno ripetute emoculture sono febbrili anche in corso di terapia antibiotica soggetti che hanno una batteria comunitaria quindi non nosocomialmente acquisita ma che entrano in ospedale già con la sintomatologia correlata all'infezione batteria quindi sono i soggetti che più frequentemente hanno un punteggio virsta un punteggio predict elevato e nei quali può essere indicata l'effettuazione di un ecocardiogramma transesofagio però c'è anche un'altra strategia che è una strategia che però richiede un adeguato colloquio con il paziente cioè io spesso in questi pazienti dico non abbiamo evidenza che il batterio si sia localizzato ma non abbiamo la certezza non possiamo escluderlo io anche di fronte a un transesofagio negativo non mi sento mai di escludere in maniera assoluta che quella batterimiana non è in nuce diventata un endocardito allora cosa dico al paziente io adesso la mando a casa ma lei mi promette che ogni qual volta avrà infezione senza una chiara sintomatologia prima di prendere l'antipioci viene da me e ripete l'emocultura la ripetizione dell'emocultura in questi casi è fondamentale perché se io ho a gennaio una batteria mia che ritengo catetere correlata da stafilococcoare poi a marzo febbre ripeto l'emocultura e viene fuori di nuovo lo stafilococcoare l'unica cosa che può essere accaduta è che quel paziente ha sviluppato un endocardite o meno frequentemente una tromboflebite esettica a seguito dell'infezione batterienica ok prof ci chiedono anche un'altra ci sono varie domande vediamo se quanto potrà tenersi ancora con noi l'altra domanda riguarda la trombosi del CVC se era un CVC trombizzato ha un rischio infettivo più alto rispetto a un CVC non trombizzato a parità di fattori di rischio in due pazienti allora assolutamente sì questo è un tema molto interessante non a caso la lock therapy viene fatta con una soluzione a base di antibiotico mirato ma anche di eparina sodica ci sono molti studi che hanno suggerito non voglio dire dimostrare suggerito un possibile ruolo delle condizioni trombofiliche acquisite o geneticamente determinate nella incrementare la probabilità che presenti un catetro centrale si realizzi una infezione e sicuramente la trombosi all'interno del catetro quindi intraluminale oppure alla tip cioè all'estremo distale del catetro può rappresentare un fattore di rischio però alle volte è in realtà vero il contrario cioè quello che noi vediamo all'estremo distale di un catetro è perifericamente inserito anche di un catetro centrale di fatto è già espressione dell'infezione che determina per sua stessa natura attivazione della cascata coagulativa in situ e quindi formazione di questi coaguli ora molti medici hanno ritrosia a rimuovere il catetere perché dico ma all'estremo del catetere c'è un trombo se io rimuovo il catetere mi parte il trombo e il paziente mi sviluppa una embolia polmonare io credo che non ci sia nulla di più errato diciamo come atteggiamento è chiaro che ci sono i casi estremi i casi limiti i casi in cui ci sono le fungus bolts sono delle enormi trombi settici adesi a questi cateteri ma nella stragrande maggioranza dei soggetti anche in assenza di un ecocardiogramma un ecocolordop si rimuove il catetere il paziente se ne beneficia subito tu vedi che alle volte la mera rimozione del catetere di fatto determina lo sfebbramento per cui sicuramente c'è un ruolo importante della trombosi sia come conseguenza dell'infezione che come possibile con causa dell'infezione ma nella stragrande maggioranza dei casi l'infezione nasce dalla parte extra cutanea e quindi extra vascolare del catetere è un'infezione intraluminale legata all'errata al fatto che noi infermieri noi medici maneggiamo in maniera errata questi dispositivi ok grazie mille prof abbiamo tempo per un'ultima domanda sì sì vai finale finale 6 e 10 mi posso trattenere se lo volete ok allora ci chiedono se nel caso di un catetere multilume è sempre necessario fare emoculture da tutti quanti diciamo i lumi diciamo del catetere più il periferico e poi come comportarsi in caso di positività di un singolo lume è sempre necessario rimuovere l'accesso oppure si può tenere in sede sicuramente se è positivo un solo lume di due o di tre c'è l'infezione seguendo ovviamente i criteri che abbiamo detto c'è verosimilmente l'infezione e quindi il catetere va rimosso non puoi rimuovere un solo lume anche un tesio un antico infetto un tesio quasi sempre poi c'è la contaminazione anche dell'altra dell'altra linea invece sulla prima domanda cioè su quale linea prediligere non ho assolutamente una risposta non c'è nessuno che abbia focalizzato la propria attenzione anche da un approccio scientifico su questo tema da un punto di vista pratico clinico quello che io faccio guardo all'emoglobina del paziente se mi vedo di fronte al paziente che ha otto di emoglobina io gliene faccio una sola di un solo set scegliendo un lume di emocoltura da catetere emunoso centrale se il paziente invece non ha anemia sperando che non sia talmente disidratato che è emoconcentrato ma sostanzialmente in quel caso lì può essere opportuno fare i set ciascuno da un lume però quello che è importante è sottolineare che per ogni set vanno usati i due barattoli e il barattolo va riempito tutto quindi non è che fai due cc di sangue da ogni lume fai la conta e il totale dieci cc e quindi e quindi raggiungi quella quantità di sangue altrimenti la sensibilità del metodo si va a ridurre ok prof ce n'è pronta subito un'altra cosa ne pensa delle lock therapy sia profilattiche nei pazienti a rischio che in casi selezionati con la tauro olivina al 2% allora non ci sono dati soliti a supporto di nessun tipo di decisione sicuramente la profilassi non è supportata da evidenze né con antibiotici né con la tauro olivina se c'è infezione e ci sono buoni motivi per ritenere il catetra allora è possibile appunto avere un atteggiamento di tipo conservativo ma c'è molta controversia sulla percentuale per esempio di successo terapeutico alla lock therapy diversi studi mostrano risultati molto discordanti molto diversi quindi andiamo da studi che dimostrano praticamente recidiva dell'infezione o per esistenza dell'infezione nella totalità dei pazienti altri studi invece con tassi di successo che superano il 50-60% devo dire che io la uso pochissimo la lock therapy e come voi sapete e vedo intorno a me uno scarso utilizzo di questo approccio e questa cosa non mi dispiace ha fatto ok grazie penso che abbiamo tempo per un'ultima domanda che riguarda il timing della rimozione in caso di trombosi del CVC come possiamo regolarci in caso di trombosi se questo influenza il timing della rimozione se c'è un ruolo della terapia anticoagulante in questo percorso quante volte ho provato con terapia anticoagulante a sciogliere trombi setti non sono mai riuscito il catetere va tolto quanto prima ma questa diciamo è un'esperienza di decine di pazienti non è una cosa così che adesso dico sulla base di due pazienti curati il mese scorso nessuno studio ha mai dimostrato che un trombosettico sia esso un trombo venoso o una vegetazione valvolare cardiaca si sciolga con l'eparina altrimenti non avremo nelle linee guida di queste infezioni il trattamento con l'eparina e con antibioli quindi il catetere va tolto appena possibile ovviamente mettendo in sicurezza il paziente assicurandosi che il paziente abbia chance diciamo di avere un altro accesso appena possibile e non c'è un ruolo pre-estrazione del catetere della terapia antitrombotica è chiaro se il paziente sviluppa un'embolia polmonare o ha una tromboflebite è chiaro che si gioverà secondo linee guida di un trattamento anticoagulante ok perfetto penso che ci possiamo fermare così abbiamo un po' abusato nel suo tempo e a nome di tutti Gis la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato oggi pomeriggio e grazie a voi chiudiamo il webinar e salutiamo tutti quanti i partecipanti ci vediamo al prossimo appuntamento al prossimo webinar Gis grazie a tutti e buon pomeriggio arrivederci grazie a tutti